bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video panorama sempre meraviglioso poco da dire e questo qua vi giuro ragazzi non sono miei e niente come potete vedere e direi che avete anche dedotto oggi vi dirò come mi vesto per i miei giri in enduro partendo da qua anzitutto prima di iniziare a dirvi che tipo di calze sono eccetera eccetera vi dico che io in inverno indosso sempre come potete vedere una maglietta termica o arancione o bianca perché sono le uniche due che ho e che tiene abbastanza caldo sì e anche dei pantaloni termici non sono questi ce li ho sotto non sto a togliermeli per farvi vedere comunque sono classicissimi pantaloni termici quindi le calze le calze sono delle calze completamente sintetiche ovviamente fatte apposta per girare in enduro tengono caldissimo ragazzi ve lo assicuro non avete mai il piede freddo sono delle calze lunghe arrivano fino al sotto il ginocchio addirittura sopra il ginocchio dipende appunto da da quanto siete alti eccetera eccetera e ve lo consiglio davvero un sacco due secondi e me le metto perfetto ragazzi le calze le ho messe come potete vedere eccole qua comode calde perfette successivamente come seconda cosa passiamo le ginocchiere le ginocchiere sono della cervis sono quelle che se mi seguite su instagram e vi consiglio di seguirmi perché sono sempre attivo sempre con delle storie sempre con delle novità sono quelle che mi sono arrivate da poco le ho trovate davvero comodissime sono le evo 3 del 2017 quindi appena uscite hanno delle fasce non a strap ma sono delle fasce elastiche da tirare a seconda di quanto vogliate averle strette attorno alla gamba e proteggono davvero tanto sono ottime sono quelle snodate quindi seguono il movimento completo del ginocchio e io ve lo consiglio davvero perché il rapporto qualità prezzo stupendo niente da ridire due secondi che ho detto perfetto ragazzi ora voi non le vedete ma io ho le ginocchiere successivamente cosa passiamo alla tuta eccoci qua allora la tuta non è la mia classica quella fluo perché ce l'ho a lavare e come potete vedere hanno dei rinforzi a livello delle anche quindi sono molto comodi e proteggono anche un pochino me li metto ottimo ragazzi successivamente passiamo alla parte sopra nella parte superiore abbiamo le protege la pettorina che si collega direttamente con il paraschiena ho deciso di prendere questo paraschiena della cervis che ha un pochino vecchio un po di anni però funziona da dio perché mi protegge anche a livello dei reni alcuni paraschiena si fermano a questo livello e quindi non ti danno la protezione anche dei reni che è fondamentale che è questa parte bassa qua quindi davvero ragazzi se volete una protezione ottimale ve li consiglio due secondi che me lo metto ottimo e come potete vedere ho il paraschiena che arriva anche come vi ho detto prima a protezione anche dei reni successivamente sempre per la parte superiore del corpo abbiamo questa maglietta in tinta ovviamente con la parte inferiore con i pantaloni ed è sempre una classicissima maglietta antistrappo niente di che ragazzi la trovate in qualunque rivenditore di di roba da moto da cross quello che volete quindi me la metto ottimo ragazzi come parte quasi finale per l'abbigliamento che io utilizzo abbiamo gli scarponi gli scarponi sono classici scarponi della gaerne ggs x1 mi trovo comodissimo mi trovo molto bene sono comodi si chiudono bene non reggono ovviamente tanto l'acqua però fanno il loro duro lavoro ovviamente hanno la punta rinforzata e anche qua hanno una doppia protezione anche dietro piede sinistro piede destro me li metto ok ragazzi mancano questi due paia di guanti qua allora partendo da questi vi spiego sono dei classicissimi sottoguanti della tucano urbano io mi ci trovo benissimo non occupano tanto spazio perché non sono molto spessi tengono caldo e io li utilizzo nei primi 5 10 minuti di enduro perché così mi riscaldo per bene anche le mani successivamente passo ai guanti da enduro ecco che ho dei guanti della metal mulisha questi guanti io li trovo molto comodi perché hanno dei rinforzi ovviamente sulle nocche perché così se prendo un ramo se prendo un sasso o la protezione non hanno i rinforzi sulle dita e questo non è il massimo ovviamente il top sarebbe avere anche dei rinforzi qua successivamente hanno il rinforzo per il gas o per semplicemente la manopola della moto così che non vi sfregate il pollice contro le manopole e poi hanno anche dei rinforzi a livello dei polpastrelli qua successivamente dovete cercare ovviamente questi sono guanti che utilizzo da un po quindi l'hanno perso però dovete cercare dei guanti che abbiano un buon grip il buon grip sono quelle striscioline che sono presenti a livello di tutto il dito solitamente indice e medio che conferiscono una buona presa quando andate in enduro bene ragazzi per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta ragazzi cosa vi devo dire io mi avvicino a questa piccolina qui e niente ragazzi salgo sopra e ci vediamo la prossima volta ragazzi stavo quasi per dimenticare una cosa fondamentale di fondamentale importanza voi non avete vista perché l'ho messa qua ma ecco questo ragazzi va sempre messo come ammortizzatore per quando fate i salti o quando prendete delle buche molto importante ecco ragazzi della marca pampers io sono allo stadio corre intanto ragazzi è tutto noi ci vediamo in un prossimo video grazie per l'attenzione ragazzi mi raccomando questa cosa più importante di tutte ciao belli ma voi stanno anche tu pampers mi raccomando questa volta Grazie a tutti